Su delega della procura distrettuale, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di gravina di Catania hanno arrestato un 38enne di mister bianco in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Catania per i reati di rapina aggravata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono a qualche giorno fa quando il soggetto si è reso responsabile di una rapina a un chiosco nel comune di Tre Castagni dove avrebbe minacciato con un coltello un avventore in modo da costringere i dipendenti a farsi consegnare un pacchetto di sigarette. Lo stesso era quindi scappato a bordo di un'auto rubata venendo comunque intercettato dopo pochi minuti da una pattuglia della sezione radiomobile di Acireale mentre stava cercando di raggiungere il centro abitato di Catania. L'inseguimento durante il quale l'uomo aveva danneggiato diversi veicoli in sosta era continuato a piedi poiché il fuggitivo sentendosi ormai braccato aveva abbandonato l'auto per rifugiarsi all'interno di un bar del centro di Acireale. Qui nel tentativo di non essere catturato aveva preso in ostaggio la proprietaria minacciandola con un coltello. I militari erano comunque riusciti a mettere in salvo la donna e a bloccare l'uomo dopo una cruenta colluttazione durante la quale il rapinatore aveva ferito col coltello uno dei militari colpendolo di striscio al fianco. Al 38enne verrà contestata anche la commissione di altre due rapine. La prima ai danni di un distributore di Mister Bianco, la seconda nei confronti di una donna intenta parcheggiare in un centro commerciale della zona. Il pregiudicato è attualmente recluso presso il carcere di Gela.